E' un nemico, e i nemici devono vedersela con me. Vuoi litigare? Lo immaginavo. Tu sei troppo ingenuo. Lo annienterò con le mie mani. Sei solamente un ragazzino presuntuoso. Io non ce l'ho fatta a superare Urra. Ce ne pentirai. Ma sono certo che lui, con il suo temperamento impetuoso, può riuscirci. Avevo fatto una promessa! Ormai tutti questi ragionamenti non hanno più alcun senso. Non volevo che mi vedeste piangere. Non sareste dovuti venire qui. Elsa. Elsa. Anna. Grazie a tutti